Ciao bambini, ma lo sapete che la relazione che avete con Dio è una relazione tossica e non mi riferisco solo a quella fatta di abusi fisici e verbali che avete con il padre ma pure a quell'altra, a quella con il figlio che è pure peggio perché non sembra Il tuo Dio soffre di un disturbo narcisistico della personalità ed è ora che tu te ne renda conto così da interrompere il prima possibile qualsiasi rapporto con lui Quindi mettiti comodo, attiva la campanella per non perderti nemmeno un contenuto like al video e cominciamo Perché c'è gente che sul web lotta per la tua anima, vogliono la tua anima e per ottenerla metteranno in campo le migliori tecniche manipolatorie e predatorie tipiche delle personalità disturbate Saranno prontissime a mettere in atto strategie di love bombing Vi parleranno di amore, di pace, di quanto tutto sia idillicamente perfetto nei tre quarti della palazzina loro e di come tu, sì proprio tu, saresti un inquilino perfetto Stai così simpatico all'amministratore di condominio Ma non esiteranno un minuto a fare gaslighting per quel quarto di palazzina che non si sottomette alle regole E pensate un po', sarà proprio quel quarto di palazzina il capro espiatorio per ogni azione in contrasto con la narrazione armonica che vi stanno spacciando Ma in questo caso loro sono solo le scimmie volanti pronti a fare il lavoro sporco per il vampiro supremo che muove i fili e ha il solo scopo di nutrirsi di ogni vostra energia E questi sono i buoni! Ed io, come l'antico serpente, mi limiterò ad indicarvi dov'è la menzogna Prima è necessario che apprendiate la differenza tra il bene e il male Perché solo dopo aver ottenuto la conoscenza potrete compiere una scelta È così che funziona il libero arbitrio Altrimenti è una drappola, ve stanna più a per culo Eh, Dio? Ups, stanna per me Ehi tu, vieni qui Sai distinguere una relazione sana da una relazione tossica? Una relazione tossica è quando ti chiedono 5 euro per far benzina Ora lascia che ti dica una cosa Se non sai distinguere una relazione sana da una relazione tossica È molto probabile che tu stia vivendo una relazione tossica Chi vive in una relazione tossica si sente costantemente in ansia, in allerta Si sente inadeguato, inascoltato e costantemente giudicato in negativo La relazione tossica che avete con Dio, narcisista patologico, ha un nome Religione Avete ansia perché c'è la possibilità di finire in un luogo dove soffrirete per l'eternità Se non fate come vi si dice Ma le regole da ricordare sono tante Troppe, alcune persino in contraddizione tra di loro e con l'anatomia del vostro corpo E questo genera quel senso di allarme chiassoso 24 ore su 24 In che senso non uccidere? Dio ordina di uccidere un sacco di gente nel suo primo libro Addirittura il secondo si basa tutto sul suo incredibile piano di farci uccidere il figlio Senza quella morte la trama non ha senso E poi perché disperdere il seme è peccato se il mio corpo produce polluzioni notturne? Se non mi masturbo ho più probabilità di avere un cancro alla prostata Non avrai altro Dio all'infuori di me? Allora per quale cazzo di motivo tu sei uno e trino? In questa relazione barra religione sarete sempre comunque peccatori Un senso di colpa insanabile con l'obiettivo di farvi raggiungere una perfezione impossibile E vi si chiederà di fare come hanno fatto figure fittizie immaginate proprio per essere perfette e irraggiungibili Santi coi superpoteri, gente che vola, chi intraprende fruttuose conversazioni con personaggi immaginari O addirittura vi si chiederà di seguire l'esempio di quella tizia che si è scopata a Dio O quello di suo figlio Un semidio O certo direi senza dubbio alla portata di Cinzio, metalmeccanico di Viterbo Che si alza ogni mattina alle 5 meno un quarto per fare le sue mai 8 ore ma sempre 9 di lavoro Per uno stipendio così misero che ti fa cedere all'obiettivo sfida alla sopravvivenza Io so Cinzio, mi serve benzina avanti al lavoro, 5 euro basta Sarete giudicati in tutto, in come vi vestite, in come parlate, in quello che dite, che fate E colpo segreto del drago nascente, per quello che pensate Perché non è solo quello che potete controllare ad essere sottoposto al giudizio Ma anche, anzi, soprattutto, quello che non potete controllare Per questo non potete liberarvi del senso di colpa Questa è la relazione che state vivendo Spendete tutte le vostre energie per soddisfare chi per natura è insoddisfabile Un Dio onnipotente perfetto e narcisista patologico Volete forse dirmi che nella vostra religione il rapporto con Dio è basato su una relazione sana? Basata sulla reciprocità, sull'equilibrio, sul confronto positivo, sulla reciproca stima E allora andiamo a vedere, secondo la psichiatria e la psicologia clinica Chi corrisponde al disturbo narcisistico di personalità Come detto prima, abbiamo parlato di un giudizio negativo su tutto Che è esattamente quello che fa Dio Ha impostato una realtà per cui è impossibile non essere peccatori e in difetto Nasciamo in difetto, siamo marchiati dal peccato originale Come la metti la metti, siamo in errore e dobbiamo chiedere scusa Dio è l'eterno giudice Lui giudicherà tutte le nostre scelte e i nostri pensieri più nascosti E chi non ha mai pensato qualcosa che fosse peccato o illegale Per questo spesso nel mondo religioso si impedisce ai membri della propria setta Setta, religione, è uguale, cambia solo il numero d'abbonati Di leggere, ascoltare, vedere qualunque cosa sia anche lontanamente riconducibile al peccato A parte per un senso di controllo assoluto, ok, ma anche perché sulla carta anche il pensiero è peccato E può influire sulla tua possibilità di accedere al paradiso E se vai al cinema, vedete Barbie e ti viene tutta una vibrazione femminista per l'addominali de Ghen E beh, pure quello è peccato Pure se poi una volta a casa non ti chiudi in bagno per quell'ora, l'ora e mezza per foraggiare, è peccato pratico Ho usato l'esempio di Ghen perché fosse le pippe su Barbie, era banale e molto patriarcale Sarete costretti a modificare tutto di voi fino ad annullarvi per compiacere Dio Un Dio che però non può essere soddisfatto nelle sue richieste Un Dio che resterà impassibile di fronte alla vostra ansia, al vostro stress, al fatto che vi sentiate in colpa per il fatto di non riuscire a soddisfarlo E di fronte a qualsiasi disgrazia si presenterà davanti alla vostra vita Questo perché Dio, proprio come chi è effetto da un disturbo narcisistico patologico, non è in grado di provare empatia Dio non è empatico, devo farvi degli esempi Diluvio universale, sacrifici animali, chiede lo sterminio di uomini, donne e bambini Crea un mondo dove la vita si alimenta uccidendo altra vita In natura gli animali devono uccidere e mangiare altri animali per sopravvivere e non necessariamente in quest'ordine Il mondo è stato chiaramente creato da un Dio incapace di provare empatia Perché il male e la sofferenza non riguarda solo la sfera umana dove provate male ad imbastirvela con il libero arbitrio e il peccato originale Ma il libero arbitrio di un bambino che nasce con una malformazione genetica e muore dopo un lungo periodo di agonia Dove cazzo sta? E come mai questo libero arbitrio magicamente scompare quando chi sta morendo dopo un lungo periodo di agonia e di sofferenza E chiede magari una morte dignitosa Lì il libero arbitrio non vale più? Funziona solo per giustificare le mancanze del vostro Dio? Libero arbitrio ad personam Dio è per gli assolutismi ed è affetto da megalomania Come un narcisista patologico è tutto lui, ha sempre ragione lui Il mondo è composto da quelli che credono lui e chi è suo nemico O credi in Dio o sei sotto il dominio del diavolo O credi in Dio o in realtà lo stai cercando, non esiste altra possibilità Non c'è discussione, confronto e soprattutto ha un costante bisogno di essere ammirato Cazzo ci ha praticamente creato solo per quello Lode a Dio è il nostro unico scopo, praticamente siamo le sue fighe di gomma Qualora in una relazione non date ragione al narcisista patologico Questo si arrabbierà in mettere in atto tutte quelle manipolazioni di cui abbiamo parlato prima Fino ad arrivare alla violenza fisica e psicologica Avete visto cosa succede nella Bibbia quando non si dà ragione a Dio? Dio vi ama, vuole il bene per voi, vuole un mondo di pace e amore per tutti Lui è onnipotente ma non può realizzare questo piano di pace, amore e bontà Indovinate per colpa di chi? Per colpa nostra, di creature difettose che lui stesso ha creato Iniziate a capire che c'è qualcosa che non va? Il narcisista patologico ha costanti up and down da applicare nella sua relazione Esattamente come Dio, paradiso e inferno, benedetto, maledetto Vive di assolutismi, imposta degli assolutismi costringendo le sue vittime a vivere in una realtà fatta di bianco e di nero Quando la vita è una scala di grigi Tutta questa tossicità che si vive in una relazione con Dio o con un narcisista patologico Va a compromettere persino l'equilibrio biochimico del cervello rendendo inconsapevolmente dipendenti le vittime Per questo quando si esce da una relazione tossica o da una religione si sta male, si vivono delle vere e proprie crisi d'astinenza Esattamente come quando si smette con la droga No ma io ho smesso, te giuro, è per far benzina Ma attenzione, perché l'esempio di Dio, così come viene descritto e come ci appare per l'Antico Testamento Per questo suo modo di essere così Aiutami a dire Io so io e voi non siete un cazzo Perfetto, grazie Che si sposa così bene con il disturbo narcisistico della personalità Non è l'unico pericolo a cui la religione vi sottopone Perché col tempo l'uomo ha affinato i suoi sensi e ha imparato a stare alla larga da certe personalità disturbate così evidenti Ma proprio come accade in natura quando la selezione naturale premia certe caratteristiche difensive nelle prede Poi accade uguale nei predatori Ed ecco che oltre il narcisista Overt del Dio dell'Antico Testamento ne abbiamo un altro Più subdolo, più pericoloso Il narcisista Covert Ciao amici! Mono vedete così che pare un po' scemo, questo è micidiale Nel delirio di onnipotenza e superiorità del narcisista Come abbiamo visto sopra più altra roba che non aggiungo se no famo notte Si distinguono due macro-categorie L'Overt che manifesta aperteamente il suo sentirsi sto cazzo e il covert E appare quasi il contrario, è apparentemente timido, empatico Apparentemente però, perché poi in realtà è più stronzo di quell'altro È giusto, quando è giusto è giusto, c'è devi stare Sotto il profilo comportamentale si associa al narcisista Overt più esibizionismo Aggressività, dominio, prepotenza, crudeltà, arroganza Un essere estremamente esigenti e profondamente amorali e privi di autocritica C'ho uno zio che era così Il narcisista Covert invece si mostra inizialmente molto sensibile Fragile, addirittura vulnerabile Attento agli altri, attento ai sofferenti, ai malati Ma proprio come ogni narcisista patologico, non prova empatia Ma sa simularla, sa recitare molto bene Un esempio Gesù piange quando viene a sapere che è morto Lazzaro Dove l'avete posto? Disse Gesù Gli dissero, signore, vieni a vedere Gesù scoppiò in un pianto Dissero allora, giudei, vedi come lo amava Ma sei Dio, il figlio di Dio, ma che cazzo ti piagni? Lo sai che la vita è un passaggio e poi Lazzaro va nel tuo regno meraviglioso di pace e amore? La morte è una liberazione abbandonato, una realtà precaria di sofferenza Per raggiungere una realtà eterna di pace e bene e piagni Non ha senso Il narcisista Covert si dipinge spesso come sfortunata vittima degli eventi o della crudeltà altrui Perché in crociate ci hanno messo l'altri, mica non era un piano vostro fin da inizio, vè? E io che c'entro? Ero tanto una brava persona Girava a quei tempi, a sapello Il narcisista Covert si dipinge come ostacolato da tutti, vessato da tutti, ce l'hanno tutti con lui Paro paro a come hanno dipinto la figura di Gesù Crocifisso, torturato, umiliato dalla gente, dai sacerdoti, dai romani Di noi che oggi ci facciamo gioco del suo immenso sacrificio È così che ce lo presentano, no? Un'eterna vittima di cui dobbiamo sentirci in colpa Ma io sono morto per voi Sì, ma sei resuscitato, quindi non vale Ma lo hai appena detto, mi hanno torturato, mi hanno umiliato, mi hanno seviziato Ho sofferto l'abbandono di tutti i miei amici Mmm, sei onnipotente ed eterno Mezza giornata di pizza in faccia non fa di te una vittima, ma proprio no Tipico del narcisista Covert sono anche gli sbalzi di umore Ama il prossimo tuo, ama i tuoi nemici Ma non adesso che devo andare a prendere a calci nel culo i mercanti del tempio Con quelle cazzo di bancarelle Si mostra disinteressato al successo Concentrato sui valori dell'umiltà, sulla difesa dei deboli Si presenta come timido e dimesso Ma è solo l'ennesima maschera sotto cui nasconde la sua viscerale brama di successo È il suo ego gigantesco D'altronde, è il fio de Dio Ma sotto queste maschere metterà in atto tutte le dinamiche di manipolazione Che abbiamo visto prima rendendo la vostra relazione un continuo salescendi di ansia, frustrazione e senso di colpa Un lupo travestito d'agnello sacrificale che ve semagna a vita Se volete approfondire in maniera seria e approfondita il tema del disturbo narcisistico della personalità Non posso che consigliarvi la nostra psicoterapeuta di fiducia Alla dottoressa Emanuela Papa, link in descrizione Spero che questo video vi aiuti a rendervi conto che c'è qualcosa che non va nella vostra relazione E che magari troviate il coraggio di ammettere che quello che state vivendo non vi fa stare bene E che se c'è qualcosa di sbagliato probabilmente non siete voi Ad essere sbagliato è quasi sicuramente il vostro partner Che in questo caso però non esiste Ma quello è un altro problema Pronto amore, non posso venire al funerale di mamma E sono rimasto senza benzina E non ho trovato nessuno che manca Manco 5 euro E lo so che in Quina c'è il cambiamento climatico Ma come me muovo? Ah dici che è meglio? Fa più breccia? Allora ci provo Grazie amore, a dopo Ciao, ciao, ciao Che c'hai 5 euro pa' droga Te giuro neppa a benzina in voglia Quina voglio solo la droga Dacci una mano ad aiutare Abbonati alla parrocchia di Padre Cain Solo 1,99 euro al mese E il primo mese riceverai lo stemma del primo chiodino Accanto alla tua foto profilo Continuando a supportarci Si evolverà fino a raggiungere il logo Dei veri fedeli della parrocchia di Padre Cain Con l'abbonamento potrai anche accedere alla playlist segreta Con il dietro le quinte dei miei video E tutti gli errori di registrazione Abbonati alla parrocchia di Padre Cain O fai la tua offerta con il pulsante grazie A forma di cuore Ma è pa' aiuto a me Ma te che vuoi? Ma mi cacciate sto tossico? Grazie a tutti Grazie a tutti